laudetur jesus christus cari amici teleradioscoltatori e pierluigi bianchi cagliesi che vi parla oggi 12 novembre 2020 per il nostro commento del giorno si stanno intensificando una serie di informazioni di notizie di tutti i generi sul quello che sta accadendo realmente negli stati uniti dove tutti i media la comunicazione a livello mondiale esulta per la vittoria di biden che non è assolutamente certa come ormai emerge sempre più chiaramente soprattutto alla luce di tutta una serie di imbrogli spaventosi e di truffe di ogni tipo che sono state compiute proprio in sede elettorale si canta vittoria e lo si faceva anche con toni sempre più minacciosi durante le stesse elezioni quando abbiamo visto addirittura personaggi come giuliano ferrara pensate giuliano ferrara che a urne aperte è arrivato a dichiarare che forse finiremo per ringraziare il virus se almeno porterà via trump e dalla casa bianca cioè avete capito come sa cosa sta succedendo e che cosa sta capitando proprio tra personaggi soprattutto che mai avremmo potuto immaginare in una quantità di intolleranza e di odio che il fronte progressista ha messo in circolazione avvelenando completamente non solo la democrazia americana ma le democrazie di tutta europa pensate che la nancy pelosi è arrivata a dichiararsi prima del voto a dichiarare prima del voto che biden sarà presidente qualunque sia il conteggio finale dei voti quindi capite bene siamo veramente qui facendo delle forzature ideologiche veramente spaventose quindi non esibisce solo un formidabile rancore ideologico non si mostra solo inadatta al suo ruolo di speaker della camera ma fa anche sospettare che nello schieramento democratico non ci sia grande sensibilità democratica almeno questo emerge direi in maniera sempre più chiara e pensate che anche la cina la stessa cina comincia a cantare vittoria per i risultati e addirittura dopo giorni di riservo ha iniziato proprio a lodare questa nuova america quindi prima il portavoce del ministero degli esseri cinesi cinese che wang wang bin che ha dichiarato abbiamo sempre sostenuto che la cina gli stati uniti devono rafforzare comunicazione dialogo per gestire divergenze ed espandere la cooperazione in base a vantaggi reciproci e quindi qualche modo plaudono a questa nuova elezione che tutti danno per scontata quindi la cina scommette su joe biden alla casa bianca proprio bramando un'america accomodante sui dazi in genere sul confronto economico militare ai cinesi quindi non è sfuggito che sull'origine del covi proprio biden si è mostrato omertoso al contrario di trampe che invece voi sapete benissimo ha rimarcato ogni giorno la provenienza da wang del virus che ha sconvolto il mondo e non dimentichiamo quali sono le conseguenze causate da questa situazione allucinante che ormai sta prendendo i contorni di qualche cosa che un giorno in futuro nella storia sarà ricordato come il più grande esperimento infernale che sia mai stato messo in atto del tutto tenete anche conto che la crescita delle capacità economiche militari cinesi può portare comunque a un conflitto militare che sarebbe molto difficile da contenere ma vedete che è tutto questo poi lo dobbiamo riportare ai dati che giungono dall'america dove il procuratore generale questo william bar ha autorizzato il dipartimento di giustizia a indagare su qualsiasi accusa sostanziale di frode elettorale nell'elezione del 2020 dicevo inizialmente queste frodi che in questo momento appagliano sempre più chiare sempre più evidenti e che potrebbero portare a un'inversione dei risultati in tempo reale e proprio mentre i voti continuano ad essere contati e le cause legali volano pensate che alcuni stati assegnati dalle proiezioni a biden sono tornati in milico e saranno soggetti al riconteggio dei voti visto il distacco minimo tra i due candidati inoltre il presidente trump ha già presentato ricorsi e denunce in molti stati per frodi e regolarità elettorali che in alcuni casi sono già state ampiamente accertate ma ciò nonostante pensate da tutti i media dicevo tra cui la cnn si parla di job di joe biden come proclamato ufficialmente presidente degli stati uniti e quasi tutti i grandi network mediatici degli stati uniti vanno a ruota insieme a quelli europei per dare per scontata questa questa vittoria tenendo presente e comunque al momento presente il presidente americano è sempre trump quindi è sempre più evidente che il sistema dei grandi media ha voluto forzare la situazione per mettere il paese di van davanti al fatto compiuto e quindi creare soggezione attraverso una pressione psicologica sempre più forte c'è un osservatore uno storico attento che eugenio capozzi che ha osservato che se dovessero emergere le prove che i risultati annunciati sono stati falsati le corti degli stati uniti e la corte suprema dovranno decidere sotto la spada di damocle di un'opinione pubblica che già convinta e crede che giochi siano stati fatti che le cose appunto non sono così e che potrebbe accadere che venga proclamato come presidente degli stati uniti un'altra volta per la seconda volta donald trump proprio da quello stesso sistema mediatico che ha fomentato fino alla presunta vittoria di biden tutte queste rivolte dei gruppi estremisti di sinistra che hanno messo a ferro e fuoco gli stati uniti che in questo momento si sono placate ma che nel caso in cui dovesse emergere appunto dopo la vera la dimostrazione di tutti gli imbrogli che sono stati fatti la vittoria di trump allora scatenerebbero nuovamente l'inferno questo vedete cari amici dei radio ascoltatori si chiama dittatura del pensiero unico al potere da parte nostra cari amici aspettiamo e attendiamo con quella pazienza quella fiducia soprannaturale che gli eventi si sviluppino secondo i piani di dio e della sua provvidenza e confidiamo che quando tutto sembra perduto il signore ha sempre capovolto poi le sorti della storia e ha fatto recuperare situazioni che umanamente sembravano ormai perdute da parte nostra cari amici testimoniare la verità sempre con maggiore forza con maggiore coraggio con maggiore fermezza con l'arma del santo rosario che deve accompagnarci infallibilmente e incrodabilmente in queste ore decisive a tutti voi cari amici cittadini radio ascoltatori d'augurio di una buona giornata laudetur jesus christus mi piace 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 mi piace